Al forum HR 2017 si è parlato molto delle ricadute sul mondo delle banche della rivoluzione digitale. Secondo lei rappresenta più una minaccia o un'opportunità? Io penso che rappresenti più un'opportunità che una minaccia, un po' perché dobbiamo abituarci a pensare al cambiamento come un'opportunità e non come una minaccia anche perché il cambiamento è ineluttabile e quindi voglio dire mettersi in un mood positivo certamente aiuta a gestirlo. Ma poi penso che possa rappresentare effettivamente un'opportunità perché la trasformazione digitale, il modo di intendere il lavoro, la digitalizzazione dei processi, la semplificazione dell'attività porta anche a facilitare una semplificazione, una drastica semplificazione organizzativa e quando si pone meno attenzione alla gerarchia, alla forma aziendale, ci si porta ad avere più attenzione alle persone e al loro contributo professionale. E questo penso che sia un bel messaggio e una bella opportunità per pensare un po' meno all'iter procedurale interno autorizzativo, decisionale eccetera e più al contributo professionale delle persone. Da questo punto di vista la rivoluzione digitale ha favorito il processo di riorganizzazione che avete dovuto affrontare con la nascita del banco BPM? Per noi sicuramente è stata e sarà ancora di più nel prossimo futuro un'opportunità. Una delle cose che è stata sottolineata nel nostro piano industriale sta proprio nella possibilità a seguito di questa fusione di aumentare gli investimenti in ambito digitale. Abbiamo costruito un'organizzazione e dei processi di lavoro che valorizzano l'utilizzo della digitalizzazione della banca e in questo senso intendiamo proseguire anche per coglierne tutte le opportunità, peraltro anche venendo da esperienze da una parte o dall'altra che sono sicuramente delle esperienze di successo sul mercato. Punteremo sul digitale, ha detto nel suo intervento, ma ha anche sottolineato come siano sempre le persone al centro del cambiamento. Sì, una cosa bella di questo tema è che quando se ne è cominciato a parlare un po' di anni fa in realtà tutti quanti concentravano l'attenzione sulla parte hardware, sugli investimenti tecnologici eccetera. Ormai mi sembra che anche chi si occupa più squisitamente di aspetti tecnologici comprenda e condivida che sono le persone che fanno la differenza. Quindi possiamo dire che all'origine c'erano le persone, alla fine continuano ad esserci le persone e non dobbiamo pensare soltanto che siano le nuove persone, i giovani, che possono affrontare un mindset generale in forma digitale, ma anche le persone un po' più agè sicuramente possono dare il loro contributo in questo senso. Occorre però che il personale adotti un approccio più orientato al risultato. Come pensate di aiutare questo cambiamento? Guardi, la prima cosa è una constatazione. In realtà noi nella nostra vita privata spesso siamo molto più digitali che non nella nostra vita lavorativa. E quindi già portare lo stesso livello di digitalizzazione dall'esterno all'interno probabilmente già ci fa fare un passo in avanti. Poi certamente l'informazione, la formazione e fare un po' di palestra mentale in ordine a queste cose aiuta a gestire il cambiamento. Alcuni strumenti di welfare aziendale come ad esempio il lavoro agile aiutano anche ad aumentare la produttività e il rapporto con il cliente? Assolutamente aiutano il rapporto con il cliente al punto che secondo me il lavoro agile o smart work come si voglia dire, secondo me non va neanche considerato una forma di welfare ma è proprio una modalità organizzativa e di funzionamento della banca che valorizza certamente anche il work-life balance ma consente anche di essere più produttivi e più efficaci nei confronti dei clienti. Qual è la sfida più importante che i responsabili HR dovranno affrontare nei prossimi anni? Riuscire a spiegare bene qual è l'obiettivo e quali sono i passi che bisogna fare in maniera molto chiara, trasparente e lineare per vincere la sfida con il mercato.